Nascondeva in un locale hashish e cocaina e per questo è finito agli arresti domiciliari. E' accaduto l'altra sera a Minervino Murge dove i carabinieri hanno arrestato un 33enne del luogo incensurato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari durante un servizio di perlustrazione notato un sospetto via vei di giovani provenire da un locale di via Rione Belvedere hanno proceduto al controllo facendo viruzione. All'interno è stato identificato il 33enne il quale è stato trovato in possesso di una dose di hashish. La perquisizione, estesa a questo punto anche al locale, ha permesso ai militari di rinvenire in un cassetto di un mobile una dose da 3 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, dei ritagli di buste in cellofan e un coltello con la lama sporca di hashish. Scattate così le manette ai suoi polsi, il 33enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La droga e il materiale utile alla confezione delle dosi invece sono stati sequestrati.